si sente che non è la stessa mescola che c'è sulle le le vapor per dire non mi ricordo quella delle zoom fly forse era sembrava un pochino più morbida quella la però non lo so non avevo valutato correttamente l'impatto che poteva avere la scelta delle sette scarpe che abbiamo presentato qualche settimana fa per le recensioni dell'autunno mi hanno contattato in tantissimi non soltanto il famoso amico di instagram per dirmi che ne ho dimenticate alcune chiaramente avevo già valutato con andrea la possibilità di realizzare un video dedicato per le scarpe asics e nike oltre a quelle soconi visto che il primo brand ha rilasciato un modello sicuramente molto interessante e che gli altri due sono quelli tra le più amati del mercato italiano detto ciò siamo stati di parola perché avevamo detto che in un video se avessimo raggiunto le 3000 views avremmo comprato una determinata scarpa come vedete oggi detto e fatto ad ogni modo nei prossimi minuti parleremo delle cinque scarpe che secondo noi sono le più importanti e interessanti in questo momento per l'autunno 2020 e lo facciamo allo stesso modo che avevamo già fatto precedentemente ossia intervistiamo andrea gli chiediamo che di che scarpa si tratta lui non ha la possibilità di vederla prima quale peso ha e quali sono secondo lui le caratteristiche fondamentali di questa scarpa prima di andare sulla barriera dei 3000 siepi a garbagnate se non l'avete ancora fatto vi chiederei un grandissimo favore iscrivetevi al canale in modo tale che non vi perdiate nessuna delle prossime recensioni che faremo nelle prossime settimane e se potete attivate pure la campanellina prima di lasciare la parola ad andrea vi chiedo secondo voi sulle 5 scarpe quante ne indovinerà e soprattutto se andrea si accorgerà del fatto che ho commesso un piccolo errore in fase di acquisto vediamolo subito poi torneremo qui per due considerazioni finali spero che possiate vedere il video fino alla fine anche perché non ci sarà una scatola di colore nero ma di colore bianco e quindi secondo me è qualcosa davvero interessante le aziende ci confondono sempre più cambiando anche i colori lascio la parola ad andrea ci vediamo ciao andrea tutto bene ciao max tutto a posto sono un po in bilico qua sulla riviera ma riesci a saltarla no al massimo rischio di cadere dentro speriamo che non succeda ma le regole del gioco sono sempre chiare tu prendi una scarpa non sai quale sia e dici quanto pesa e qual è la caratteristica di questa scarpa ad occhi chiusi ad occhi chiusi occhi aperti va bene inizia da sopra dai parto queste qua sinceramente non so proprio cosa possano essere cercherò solamente di indovinare le tastandole allora gomma morbida scarpa da molto leggera guarda direi sui due etti a sentire ho visto la marca che era una sauconi sto sentendo il materiale sembra il materiale nuovo direi che sono le nuove endorphine direi le speed grande cazzo ve lo giuro che non l'avevo guardata adesso sapendo che la scarpa è questa forse direi dueventi due infatti no no vabbè questa qua è da level pro ormai vabbè la mette via max dopo questo è stato bravissimo potevamo chiudere qua posso solo peggiorare come dico io è un po come quando quando giochiamo a basket che agli allenamenti tiri da tre fai canestro a ciuffo anzi da tre tiri da metà campo e fai ciuffo al primo tiro dici vabbè questo il secondo tiro non lo faccio più perché tanto era culo e non ne do la controprovo agli altri allora anche questa sembra una scarpa molto leggera suola abbastanza strana visto la marca che azix a noi piace azix e devo dire che allora a me piaceva tantissimo azix ai tempi poi con le cumulus e le nimbus con un po stretti ne avevo abbandonate nova blast mi ero trovato da dio ho ritrovato le nimbus un'ottima scarpa le 21 avevo le winterized che ritirerò fuori tra poco le sto tocchicciando la gomma non è una non è una nimbus non è una cumulus abbastanza leggera anche lei sui 220 dina flight no road blast no beh dai comunque bella sì in effetti la gomma la sentivo che non è la stessa che c'è sulla sulla nuova blast un po più duretta un po più entry level direi un po molto più entry level si vede io non la stavo guardando la bella scatola no la tua moglie mi piace bisogna provare la sicuramente la la mescola perché non sembra lo stesso blast che già che tiene la la nova blast vedremo colore un po da femminuccia max la figlia la proverà quindi queste dovrebbero essere da pro quelle non lo so vediamo no dico se si vede dalla scatola anche questa credo che sia una blast infatti si sente che la mescola è più morbida sembra tipo una nuova blast non è una nuova blast allora adesso punto direi la dina blast ok non lo sapevo l'ho beccata anche lei siamo sempre su 240 forse 240 bella molto bella anche se nera nera e vera questo nero e verde l'ho visto oddio che scarpa ah sì la boston che abbiamo tirato fuori l'altra volta era davvero fantastica bella scarpa secondo me la nova blast comunque è un gradino sopra a vederla così direi vediamo ma io quella la userò all'echiden che poi dobbiamo ancora organizzare la squadra dai dai a parte che potremmo anche pensare una cosa di organizzarla con altri vediamo dai stiamo pensando questa che marca è questa è una nike che colore è e non lo so arca troia questo taglialo colore della scarpa non l'ho vista la scatola arancione quindi mi stai dicendo che non è caduta un'altra scarpa mango arcaeva allora devo rifare no comunque si sentiva una tempo next ma non avevi detto che non l'avremmo mai testata però hai detto che l'avrei voluto testare non so perché ti sei convinto bella scarpa bellina la voglio provare al piede non l'ho ancora provata dire dirò cosa ne penso del colore con la prossima scarpa in generale bellina la voglio provare la voglio provare non voglio dire niente anche lei comunque 240 grammi direi forse anche un attimino di più infatti si sente che non è la stessa mescola che c'è sulle le vapor per dire non mi ricordo quella delle zoom fly forse era sembrava un pochino più morbida quella la però non lo so vedremo al piede che effetto fa c'è solo l'ultima scarpa è stranamente di un altro di un altro colore anche questa evite di guardarla mi sa che la sorpresa qua ce la siamo tolta e dopo dirò anche la mia allora qua abbiamo tolto la sorpresa poi vi racconterò allora max voleva farmi una sorpresa non ci siamo riusciti però però sempre alla stessa idea a volte non hai avuto la stessa idea e va beh l'avevo capito si era capito perché ben qualche giorno fa l'avevo l'avevo scartata anche io i miei ragazzi me l'avevano regalata anzi questa quella di max la mia dentro nell'altra nell'altra scatola qualcuno aveva già visto che avevo postate su instagram e niente dopo quando le faremo il video devo ringraziare i miei ragazzi ve l'avevano detto con queste dovrei fare la recensione quindi ripeto queste sono quelle di max credo un 27 cm e le mie sono 27 e mezzo vediamo ad ogni modo siccome faccio gli anni due giorni prima di te le ho avute prima di te anche a te te l'hanno regalata per il complato però si è un valordo perché non le hai messe non le hai messe su su instagram come me è una grande scarpa allora devo dire la verità vista su internet faceva schifo è davvero bruttissima dal vivo è bellissima perché è bellissima molto strana molto futuristica poi vi dirò le prime impressioni che ho avuto appena l'ho calzata perché ho già avuto la fortuna di calzarla a la scarpa siamo sui 240 forse anche questa 220 220 240 però ti dirò il contrario della della tempo nex aspetta che provo a prendere in braccio tutte e due no allora sembra un attimino più più leggera ma proprio di poco forse però ti dico non c'entra niente come scarpe un pochino più carrozzata la l'alfa fly però lei e le mescole sono sono diverse anche la tomaia è diversa sono proprio due scarpe completamente diverse non non mi sognerei mai di paragonarle va bene adesso direi che abbiamo tempo per scegliere quali scarpe fare nelle prossime settimane vediamo credo di aver già deciso meritano va bene grazie andrea ci vediamo alla prossima ciao alla prossima bravissimo andrea 4 su 5 non male davvero si è pure accorto che della road blast ho preso la versione femminile purtroppo non tutte le ciambelle escono con il buco nei prossimi giorni inizieremo la recensione sulla base della votazione delle sette scarpe anche di queste cinque in modo tale da non lasciare nessuno insoddisfatto se il video non l'avete visto che la leggo qua sopra e parlando di insoddisfazione siccome quasi tutte le scarpe sono autofinanziate quindi ce le compriamo sicuramente tutte tutte noi se volete una scarpa che non sia tra le 12 indicate qui sul canale abbiamo attivato un buy me a coffee se raggiungeremo un certo importo faremo un sondaggio prenderemo tra le cinque quella più votata metto comunque il link qua sotto nessun impegno vedete voi alla fine noi comunque di scarpe da testare ne abbiamo parecchie e con questo è tutto dimenticavo di dirvi che io sono massi alla fine della recensione al posto del coniglio vi metto 20 secondi di video dell'alpha fly vedetevelo bene gustatevelo speriamo di fare la recensione o la pre recensione appena possibile nel frattempo fino alla prossima recensione stay strong keep running e ci vediamo alla prossima cercando ovviamente di stare forti in questo particolare momento dell'italia ciao